ciao ragazzi nuovissimo video in questo video non mi vedete ma perché sono un po sconfusionata poi non sono nemmeno truccata e quindi ho detto vabbè io giro da questa angolazione tanto vi devo fare un video haul e quindi di brochet quindi ho detto anche se non mi vedono ma me ma vedono direttamente i prodotti va bene lo stesso allora vi mostro subito cosa ho preso ho preso due gel detergenti della idra vegetal questi qua pagati 4,95 euro ciascuno mi ci trovo super bene sono congelati perché fa un freddo pazzesco però comunque mi ci trovo bene anche per struccarmi e li ho voluti riprendere e come vedete ne ho presi due poi ho preso una maschera per capelli perché la stavo finendo e questo qui è quella nutrizione maschera nutriente all'avena mi c'ero trovato super bene l'estate scorsa e quindi l'ho voluta riprendere prezzo 6,95 poi ho preso una combo dove c'era saponetta mango crema per le mani al mango pagata 4,95 euro mi pare tutte e due e quindi per pulire i pennelli e una crema per le mani sono super valide per queste creme per le mani e quindi ho detto mentre ci sono le prendo tutte e due le prelevo poi ho preso un matitone per gli occhi e e questo qui è un ombretto 01 nude matt è anche molto carino anche come base per gli ombretti non è molto colorato cioè su me che sono bianca morticcio aiuto non si vede ho sbagliato sulla mano vediamo un po' ecco lo spiaccicato tutto brava ecco è questo il colore bene sto facendo dei danni assurdi va bene vediamo ecco rimette a fuoco poi ho preso due scrub per il corpo 4,95 euro ciascuno e ho preso questo al mango che anche per l'estate secondo me sono super validi per mantenere anche poi l'abbronzatura e anche per rimuovere comunque le cellule esquamate e poi ne ho preso uno anche a rasperry e poi c'erano dei profumi pazzeschi sono molto utili le ultime tre cose ho preso il nuovo shampoo anti pollution di zampi di broscia 3,95 euro sono 300 ml l'ho aperto una profumazione spettacolare mi è stato poi anche consigliato e quindi l'ho voluto acquistare uno un balsamo all'avena questo qua nutrizione e infine per mia mamma ho preso un fondotinta zero default 14 ore pagato 14,95 euro in offerta e io ho preso il doré 200 e niente ragazzi questo era tutto ciò che ho costato ai brosci spero che il video veloce e intenso vi sia piaciuto ci vediamo presto grazie 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 grazie